Ciao ragazze, eccoci qua con il terzo video della giornata questo è il terzo video sì, cominciamo ad essersi un po' beh, niente video in collaborazione con la dolcissima e bravissima Avon Peri e qui diamo un grosso bacio ciao tesoro allora, video sui prodotti Aul, Avon che abbiamo preso per noi allora, cominciamo con un bracciale sai che abbiamo detto che lo facciamo vedere voglio montare io tu guarda, allora fai vedere il fogliettino che ce li fa vedere qui sì, sì, sì questo qui è il set cioè il bracciale e anello madina ed è i sì ecco qua fammi vedere le istruzioni di assemblaggio assemblaggio, aspetta oh no, mia quello è un pezzettino è la catena sì, lo so l'anello no voglio farvi vedere che l'anello è regolabile quindi va bene a tutte questo è il braccialettino no allora 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 questo è la parte del braccialetto sì, è questo qui non ho capito che c'è cosa allora si presenta così questo è il braccialetto spero che mi vada bene perché se no aggiungerò dei cose degli anellini che io riesco ad aggiungerli questa è la parte che va qua e per finire ci va l'anello e va agganciato qua l'anellino io non ho capito questo arrivo ti stufi di portare questo vuoi cambiarlo lo prendi apri facciamo tutto in diretta è una roba ci sono gli anellini e non riesco e ci si è già pronto aggancia che è già pronto e lo si aggancia lì ecco fatto così si può scusate vedi così si può cambiare poi si attacca sempre l'anello e poi ci si attacca l'anello capito? si e meno che ti sistemo la scatolina diversamente perché tu non penso come lo rincastra tutto io rincastrarlo? infatti guardatelo bravissimo ho reggerato il cartoncio in modo che sia più carino invece di avere bianco e nero esatto poi dove arrivarmi nell'altra campagna ma non è spediremo della prossima campagna che questo è il nuovo rossetto lax guardate com'è bello è enorme è enorme la colorazione è la provocati pink guarda che bello stanno bene anche con le nuove matite ti immagini il rossetto questo con sui luci da labbra sta benissimo allora questo è un true color si pink esatto doveva arrivare anche il vaniglia ma non è arrivato pennellino c'è il colorino se vuoi fare lo sbocino con la manina questo è un po' sul mio ditino qua invece lo cacchio è finito anche qua rosino molto confettino e per finire abbiamo il fondotinta bright star nella colorazione depp weat che si voglio vedere su di te dopo due ore dopo due ore è uscito mezzo chilometro di e la colorazione è questa che per me spalmate ne sono un po' in faccia no guarda va bene si a posto guardate questo è una volta spalmato per la mia carnagione va bene è facile è facile è molto leggero proprio e in plastico si in plastico un altro profumo è buono senti un buon profumo ok per finire basta mamma dio questi due dovevano arrivare nelle anteprime dovevo farvele vedere nelle anteprime di campagna 5 sono che buono è la nuova profumazione limone di sicilia e aspetta e gerbera gerbera rosa e limone di sicilia un profumo che è un qualcosa ragazzi è troppo buono eccoci qua questi sono tutti gli acquisti che abbiamo fatto noi mi raccomando andate a vedere anche il video di Avon Perry che vi lascerò nell'info box il link del suo canale se avete acquistato anche voi qualche prodotto o avete qualche domanda da farvi lasciatela nei commenti da farmi non da farvi qualche domanda da farci lasciatela nei commenti deve piovere guarda il tempo io oggi devo andare a riprendere la mia bicicletta non la voglio lasciare la acqua piove domani tranquilla domani piove però voglio riportare la mia bicicletta ok ragazzi noi vi lasciamo un grosso bacio ciao a tutte alla prossima